Ascoltare quello che vi raccontiamo Questa è la breve agenda di questa presentazione Quindi vediamo chi siamo e cosa facciamo E' un piccolo intervento su quello che è l'NLP e l'NLU nel bot E' un esempio live di codice per vedere come fare questa cosa Farla veramente Non è già un esempio semplice Facciamo Scusate Questa altra cosa perché Chi ha assist è una società americana Qui vedete il team tecnico che è praticamente tutto italiano Perché siamo Uno è qui in sala con noi che sta facendo il quinto di niente Altro ragazzo di Napoli che non è riuscito a venire stasera Adesso sono io Qui in fondo invece vedete la foto dei tre founder di questa società Dei quali uno è italiano, un ragazzo al centro italiano Quindi una buona componente italiana all'interno della società Poi con noi lavora un altro ragazzo che è francese E adesso stiamo assumendo altre persone Però insomma siamo partiti così Che cosa facciamo Assista è una società che fa chatbot Abbiamo iniziato nel 2015 Abbiamo preso una prima deriva nostra interna Quindi facevamo un nostro assistente personale Al quale si potevano fare diverse richieste Per diversi ambiti di utilizzo A fine del 2015 Inizio del 2016 Invece abbiamo preso una deriva leggermente più corporate In questo momento facciamo chatbot per grossi brand Grossi brand tipo Sephora Non so se conoscete un marchio di cosmetici Abbiamo portato l'Holly Planet su Google Home 1-800-Flower Siamo un altro cliente grosso Più o meno l'incuale di Interflora Però scalato sul mercato americano Stiamo lavorando con l'ONU Per un chatbot per aiutare i rifugiati Della stessa di Gaza Una foto fondamenta Insomma altri clienti di questo calibro qui E siamo partner con i principali player di questo mercato Quindi Facebook, Google e Twitter Partner nel senso che veramente collaboriamo con loro In maniera stretta ci chiedono di testare nuove cose Che non hanno ancora rilasciato Portiamo clienti per casi d'uso Sugli stage delle conferenze che fanno Siamo stati presentati all'ultimo F8 L'ultima conferenza di Facebook Che è stata fatta ad aprile Uno dei bot che è stato presentato Quello del 800 flowers L'abbiamo fatto noi Quindi siamo abbastanza attivi nel settore Che cosa vediamo oggi? Oggi siamo venuti qui per raccontarvi Che cosa vuol dire dare a un bot La capacità di comprendere il linguaggio naturale Quindi che cos'è il linguaggio naturale? L'NLP Una sigla che è stata in Natural Language Processing È la scienza che studia E che mette le macchine in condizione di comprendere Il linguaggio naturale Quindi il linguaggio delle persone E di rispondere utilizzando il linguaggio naturale È un cappello abbastanza ampio Che raccoglie appunto queste tecnologie Noi nei nostri chatbot Tipicamente utilizziamo invece Una sottoparte che è l'NLU Cioè ci preoccupiamo di capire Che cosa l'utente ci sta chiedendo Perché poi le risposte Sono bene o male strutturate E quindi c'è questa piccola distinzione Da tenere in considerazione Oggi vedremo come fare NLU Ok Come lo facciamo noi Dentro Assist? La nostra architettura è suddivisa In due parti Sono quelle in blu Quindi abbiamo un sorta di motore Che si preoccupa di colloquare con l'utente Quindi riceve chieste E manda risposte E nel momento in cui ci serve Utilizzare una risorsa esterna Abbiamo una seconda componente Del nostro stack Che si preoccupa di fare la richiesta Verso l'esterno In questo caso vedete Quale sarà lo stack di stasera Cioè noi abbiamo un motore Per ricevere richieste Che veicola Questa richiesta di parsing Di elaborazione del testo Verso un fornitore esterno Perché? Perché noi in Assist Ad oggi ancora Non abbiamo un sistema proprietario Di NLP Quindi tutto quello che ci serve Per poter fare Analisi del testo Lo facciamo in esterno Con servizi esterni Ce ne sono di diversi tipi Stasera ne vediamo due Che sono tra i più chiacchierati Che sono gratuiti Sono proprietà di Facebook il primo E di Google il secondo Ce ne sono altri ovviamente Ce ne è uno di Microsoft Ce ne è uno di IBM Potete trovarne C'erano altri che non conosciamo Che sono nati oggi pomeriggio Quindi questi due servizi Sono gratuiti E permettono di Costruire velocemente Un agente in grado di capire Il linguaggio naturale Adesso direi che Lo vediamo direttamente Perché l'agenda porta qua Mi presenterò un'ultima slide Spero che si veda Abbastanza Ora questo è un bot Molto semplice Che ho creato Solo per Per l'occasione Quindi È abbastanza stupido Non fa niente In questo momento Che cosa fa? Se io gli scrivo Lui semplicemente Mi fa il pappagallo Cioè mi ripete Mi ridice quello che sto facendo Perché non sta capendo L'unica cosa che sa fare oggi È prendere questo messaggio E mandandolo indietro Ora Input output funziona L'input output funziona Sono fortunati Faccio vedere Il codice al volo Allora Ovviamente Si vede Troppo piccolo? No? Sì no? Troppo? Così torna Mi dispiace Allora Il nostro sistema Il nostro workflow manager Quello che vi ho fatto vedere prima Che era segnato con un VFM Praticamente È una macchina stati Quindi Ogni volta che arriva un messaggio Questa macchina è in grado Di validare il messaggio Se il messaggio è valido Lo passa a una fase di esecuzione Di un comando E poi Può decidere Qual è lo step successivo Quindi Un grafo Arriva un messaggio Tu puoi Un albero decisionale Tu puoi andare a destra e a sinistra E In questo momento Poi vi spiegherò Che cos'è quella roba lì L'unica cosa che lui vi dice Vi dà questo testo Come posso aiutarti Vi butta fuori un'immagine Che è quella di Bruce Lee Di prima E nel momento in cui Vi rispondete Va al secondo step C'è una fase di routing Che va sempre secca Su un secondo step E il secondo step Non fa altro Che ripresentare Quello che voi avete scritto Spero che sia abbastanza chiaro Per me E' molto semplice Questa cosa Però Vi spiego a parole Che cos'è Se poi Dopo lo speech Volete approfondire qualcosa Ne parliamo Ora Che cosa Facciamo Andiamo Su API AI Che è Che è Che abbiamo Un bagliato Questo Ovviamente Lavoro Sì API AI Appunto Il primo fornitore Di NLP Che vediamo stasera Ok Fondamentalmente Per fare l'analisi Del linguaggio naturale Bisogna spiegare A questi sistemi Che cosa Noi vogliamo andare A riconoscere Ovviamente Le macchine Non fanno niente Da soli Il computer Non fanno niente Da soli Bisogna Spiegargli Che cosa Ci interessa Ora Io ho costruito Questo Questo esempio Attorno A un intento Abbastanza semplice Io voglio ordinare Un panino Ok Mettiamo Io sto preparando Il chatbot Per una paninoteca Qualcuno che vuole Ridurre la quantità Di fila Che c'è All'ingresso Del suo locale Ok Faccio il chatbot Prendo gli ordini E poi Do già i sacchettini Con i panini Quindi Creo un nuovo intento Mettiamo Il panino E poi Che cosa faccio Ehm Voglio Un panino Quindi crudo L'ho già riconosciuto Come un ingrediente Adesso vi spiego Ho dovuto fare una cosa Per velocizzare Questa cosa Allora Questo sistema Riconosce Intenti e identità Questo è un po' Il concetto Dell'NVU Quindi lui è in grado Di conoscere Attraverso delle frasi Che cosa voi volete fare Poi all'interno delle frasi Può estrarne Delle entità In questo caso Non voglio solo sapere Che mi sta ordinando Un panino Mi interessa anche sapere Che cosa ci devo infilare Dentro il panino Di azione e complementi Ok Se vuoi chiamarli così In questo sistema Parli come Intenti e identità Poi se vuoi tradurre Ok In tutte le trovi Come intenti e identità In realtà Nel sistema Che vi farò vedere dopo Le chiamano Entiti e keyword Diciamo che io Per quello che riguarda me Mi piace di più La nomenclatura Intento e identità Cioè l'intento Io ti sto esprimendo Che cosa voglio fare Le gdm Ti intervigiamo Cioè 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 Ok Che cosa non vi ho fatto vedere Qui dentro c'è un menu Dove voi potete andare A definire Gli intenti E le entità Diciamo che l'interfaccia Dpi È un po' più facile Da utilizzare Un'intento è un po' più Grezza Per quello che ho iniziato Con questo Entità Io questa cosa L'ho già fatta Ne ho definita una E gli ho definito L'entità ingredienti Che racchiude Le possibilità Che gli utenti Possono esprimere Quando ordinano un panino Con i sinonimi Quindi prosciutto crudo Puoi dire prosciutto Prosciutto crudo crudo Comodoro Comodoro Non ho speso troppo tempo A crearla Però Qui potete andare a dire Che cosa Quali sono I valori Delle entità ingredienti In questo modo Qui la utilizza successivamente Quando poi va a fare L'analisi del testo Quindi che cosa Gli abbiamo detto Gli abbiamo detto Una prima frase Poi io avrei A iperferoni Allora Che cosa posso fare Io posso andare a dire Di riconoscere Più Di un'entità Cioè Nella mia frase Ci può essere Più di un'entità Adesso questo è un esempio Semplice L'ho fatto con due ingredienti Però pensate A un bot In cui volete andare A soddisfare Un intento di prenotazione Di una camera d'albergo Io voglio sapere Dove la vuoi Quante persone ci vai E con quante persone vai E da che giorno E per quante notti Quindi Le frasi possono essere Molto complesse Ovviamente questi sistemi Hanno degli algoritmi Che funzionano Abbastanza bene Già con poche frasi Di esempio Adesso Ne vediamo Ne mettiamo un po' E vedrete che comunque Lui riesce a capire Anche quando la frase Ha una struttura diversa Più è complesso Quello che andate a Cercare di capire Più sarà importante La parte di Learning Che dovete fornire Quindi la base di dati Che gli dovete dare Per permettergli di capire Che cosa state facendo Ok Quindi questo è un primo esempio Salviamo Adesso che cosa facciamo Andiamo a cambiare il nostro bot Semplicemente io Per fare prima Mi sono fatto un po' di branch E passiamo a questa Ok Allora io che cosa faccio adesso Nella nostra architettura C'è un pezzettino particolare Che abbiamo chiamato Dispatch Che è un qualcosa Che interviene ogni volta Che arriva una richiesta Questo perché Qui alla fine Vi farò Vi farò vedere il link Di un articolo interessante Su questo argomento La gente tende ad utilizzare i bot Nello stesso modo in cui pensa Quindi magari vai Dal paninare E mi dici Ah vorrei un panino Cotto a mozzarella Bene Cosa ti do ad avere? Una coca cola Però no Non ci mettere il cotto Mettici in crudo Ok Questa cosa In un albero Vi farebbe tornare indietro Dove essere di navigare indietro E per gestire Questo genere di feature Noi abbiamo introdotto Qualcosa che chiamiamo Dispatcher Che praticamente Si pone davanti A ogni nodo Del nostro albero decisionale E ci permette di andare A intercettare Questi salti Nella navigazione Quindi che cosa fa Fondamentalmente Questo signore qui In questo momento Qualsiasi richiesta Che gli arriva Che non inizia con Underscore Underscore Lo spiegherò perché La considera Una richiesta In linguaggio naturale È abbastanza stupido Come codice Però qualsiasi cosa Gli arriva Senza una discordavanti Per lui È linguaggio naturale Quindi cosa fa Gira questa richiesta Al servizio di NLP Quindi cosa fa Semplicemente Saltiamo allo step Dove chiamiamo L'NLP Che è un po' più grosso Che è qua sotto E che cosa facciamo Al di là Della Cintra del codice Andiamo a fare Una chiamata Al servizio Di API AI L'API AI Si dispone Delle API REST L'API AI È un buon gioco Di parole Però l'ho chiamata così Quindi semplicemente Queste quattro Lighe di codice Che cosa fanno Impacchettano una richiesta E fanno una get Verso il sistema L'API AI Questo elabora La nostra richiesta E ci ritorna Un JSON Che rappresenta La risposta Dell'elaborazione Del testo A quel punto Noi il testo Lo prendiamo E semplicemente Lo spariamo fuori Come se fosse un messaggio Quindi vedremo Direttamente Sulla chat Che cosa ci manda API AI Quindi arrivo qui Facciamo I suoi resti Un panino Crudo Un po' cagare però Questa è la risposta Di API AI Lui Ha ricevuto Questa richiesta Ha capito Che L'ingrediente 1 È il prosciutto crudo Quindi c'è un ingrediente Non c'è un secondo ingrediente E ha capito Che l'intento È il panino Quindi che cosa Stiamo facendo Stiamo trasformando Di dati non strutturati In dati strutturati E adesso Li possiamo utilizzare Così non serve a niente Questo affare Non servirà niente Comunque Quando finirò Di farvelo vedere Però Almeno capite che Ci si può costruire Qualcosa sopra Quindi Andiamo a branch Che cosa faccio Adesso Prendo la risposta Quindi prendo Quel json E inizio ad utilizzarlo Ovviamente Il API Mette a disposizione Un fallback intent Cioè Se mi arriva una richiesta E non matcha niente Del training Che io gli ho fatto Lui comunque Mi dice Guarda Io l'ho lavorata Ma non ti posso Fare niente Non ti posso far fare niente E a quel punto Gestiamo la cosa Spedendo l'utente Su uno step Dove semplicemente Mi dice Guarda Mi hai chiesto questa cosa Potreste dare un messaggio Del tipo Guarda Io Non posso aiutarti Per questo Ma ti posso aiutare Per X code Che sono quelle che so fare Potreste mandarlo a cagare Potete fare quello che volete Nel senso Poi Come viene fatto il bot È una cosa che dipende Da chi Implementa il servizio In caso contrario Invece Se Recuperiamo Se capiamo Che c'è un intento Allora Andiamo a Prendere Il valore dell'intento Ce lo salviamo In una variabile Io adesso Faccio l'esempio Per ordinare un panino Però potremmo poi Creare un intento Per ordinare la pizza Più o meno Ha le stesse problematiche Ci sono degli ingredienti Ma Uno è un panino Una pizza Però mi interessa Sapere che cosa È stato ordinato Quindi preparo Vado a verificare Che cosa c'è Nella risposta Della elaborazione Dell'NLP E poi Faccio una domanda Bene Adesso che cosa Vuoi fare A quel punto Per esempio La keyboard Classica Di queste chat Tipo Riavvia Oppure acquista E se acquisto Quindi se premo acquisto E ora capite Perché C'è un underscore Perché questi comandi Li tracciamo Con dei codici Per capire Che non è testo puro Se premo acquista Allora bene Inizia grazie Hai acquistato Il panino Con la mozzarella Così vedete Il giro Come può essere Integrato Come un sistema Nel B In un bot Non mi ricordo Da più fuori Il dato Ha gestito L'app E mi dice Cosa vuoi fare Adesso Ok lo voglio comprare Inizia grazie Ok Questi i primi problemi Bacco No Probabilmente Non va con il mio codice Andate qua dentro Bisogna andare qua dentro E vedere Dov'è che non ho salvato Il secondo ingrediente Perché evidentemente Non l'ho salvato Da qualche parte E' già tanto che gli ha risposto Poi non chiesto i soldi Poi non chiesto i soldi Nella gestione dei passi Probabilmente non ho salvato Una variabile corretta Comunque Non è che perché è Insta E quindi No no Volete fare Volete ingordarmi logo? No 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 Eee Procediamo ora La stessa cosa La possiamo fare Come un API Ma tutto è rato Con programmazione JavaScript Giusto? Se ho visto bene Perché funziona su JSON Funziona Tutto con programmazione JavaScript Che cosa? La parte Della integrazione Con La nostra Questa è il nostro Il nostro Il nostro Il nostro Il nostro Backend Quindi noi Abbiamo un'infrastruttura Abbiamo un core Java Che consuma JavaScript Per quanto riguarda Le business rule finali Quindi noi Costruiamo le regole Del chatbot In JavaScript Però Nessuno vieta E abbiamo un motore Che lavora Questi JavaScript Però Ognuno Lo può fare Come vuole Sono API pubbliche Le API sono pubbliche Sono REST Si può usare Con qualsiasi cosa Questo è WTI Quindi anche qui Non trova niente Vediamo Come ho scritto Di lato Sennò Mi scelgo No Mi scelgo Ok Fondamentalmente Fate la stessa cosa Con questa interfaccia Che è un po' Più grezza Quindi abbiamo definito Una nuova Un nuovo intento Con dei valori Per le keywords E ovviamente La cosa corretta Serebbe darvi Qualche altra frase Un pochino Scusa se Tanto Ti ho parlato In tutte le schiste Di ma Entratti I siti Si possono fare Degli inserimenti Bulk Per non dover Scrivere Assolutamente Sì Tra le API Che sono messe a disposizione Da entrambi Questi più fornitori Ci sono anche quelle Per poter caricare i dati Quindi potreste fare Tranquillamente Con un Excel Trascina colonna E vi create 50, 60 700 frasi E poi Le caricate Più frasi Vengono caricate Meglio funzionano Questi algoritmi Bisogna stare attenti A Quando ci creano Questi intenti Poi A non Caricare Frasi Intenti Differenti Uguali Nel senso Comunque Sono delle regole Di analisi E si incastrano Si incastrano Questi qui Sono gratuiti Sono gratuiti E Imparano Sono gratuiti Sicuramente Per la prima fascia Di utilizzo WTI È proprio gratuito E WTI È gratuito Fino a Un limite Di Non mi ricordo Quante richieste Al giorno Se superi Determinati Volumi Le devi chiamare Come fa solitamente Google Ti fa un limite Di cortesia Lo puoi usare Per un progetto Medio Piccolo Non ti chiede niente Però Se hai la copacola Magari Due soldini Ti richiede Anzi Anzi E' Pi Aveva un limite Fino a qualche mese fa L'ultima review Che hanno fatto Delle Delle condizioni Di utilizzo Probabilmente Hanno Bisogna leggere Perché cambiano Queste cose Inizialmente Sicuramente Era anche abbastanza Basso Il limite Di PII Infatti Noi abbiamo iniziato Con un PII Quando abbiamo iniziato A fare queste cose In America Scusate Però c'è anche Un problema Che bisogna dire Più in fondo Perché non mi sono Grazie a tutti Queste cose Però bisogna dire Che poi Google e Facebook Che sono i proprietari Si vogliono tenere Tutti i tuoi dati E tutti i tuoi Cioppoli Quindi c'è una Problematica Di si farlo Sì Stiamo parlando Di training Di questa parte qui Sì Certo Però la differenza Secondo me La differenza Sta tutta Nella Che cosa volete fare Cioè Se lo fate Per fare un esperimento Certo È un po' È fatica Avere la botte piena Certo No Ma Io Mi la vuoi subriare Quindi se volete Partire veloci Con questa cosa qui Avete visto In 5-6 minuti Conti via Hai un bot Che capisce Che cosa gli stai dicendo Se non ti stanno bene Le condizioni di utilizzo Ti puoi creare Più o meno La stessa cosa Che hanno creato loro Ci sono un sacco Di librerie in giro Per poter fare NLP Ovviamente C'è da pagare Il costo Di crearsi Il sistema Da zero Da soli No perché Cioè Il dubbio che ho io è Tu hai Delle grandi aziende Come clienti Tendenzialmente Abbiamo grandi aziende Tendenzialmente Non credo che la grande azienda Accetti questo Cioè che i suoi dati Dei suoi chatbot Siano Usati da Facebook Come La grande azienda Il chatbot Lo fa su Facebook Quindi È un po' È un po' È un po' Borderline Le grandi aziende Vogliono fare contatti Vogliono fare marketing Vogliono fare nuovi clienti Quindi il fatto che Le grandi aziende Hanno una pagina Facebook Si 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 può trovare qualcuno Che può Viettare queste cose Però di solito Si ferma lì E non faccia Se non si è d'accordo Con queste condizioni Di utilizzo Poi ovviamente Non si possono utilizzare Non si può utilizzare niente Questo Si può girare Facendosi proprio in casa Il sistema di analisi Del testo Però Su certi altri aspetti Non si può Non si può Bisogna farsi I maschillatori In casa I maschillatori In casa È fattibile Noi come ASS Stiamo studiando In questo momento Stiamo analizzando Alcuni piccoli aspetti Però Pronti via Per arrivare Ad avere un sistema Come questo Non ci vuole Proprio poco Allora ho capito Benissimo La tua preoccupazione Perché con tutto quello Che possono tracciare Diciamo a livello D'utente individuale Il fatto che Gli arrivi Un flusso Come dire Di richieste Che è completamente Anonimo Perché in realtà Come dire Vabbè Torniamo a noi Dopo litighiamo La cosa Che Vi faccio vedere adesso È Fare la stessa cosa Con un API Alla fine Per quanto riguarda noi Che cosa abbiamo cambiato Cambiamo semplicemente Nella nostra architettura Teniamo un altro servizio Ovviamente noi Frappiamo queste chiamate Quindi io cambio Quella label E invece Chiamo RPAI Chiamo Questo pot fa la stessa cosa Che faceva Quello di prima Alla versione in cui Sputa fuori Il JSON Ok Il Tuesday Mi risponde Ha capito che voglio un panino Ha capito che voglio Panini e peperoni E in realtà Mi sta anche dicendo Guarda Io l'ho capito Che tu vuoi il panino e i peperoni Occhio però A tutti i peperoni non mi ha iscrivito, io l'ho dedotto, quindi ti sto suggerendo che i peperoni sono un ingrediente state a prendere, venire da me e se non ho capito male rifarmi il training, intanto questi sistemi vanno fatti così, cioè si creano si fa un training, si testano si verifica, si fa il training è un sistema, alla fine si sta costruendo un piccolo sistema cognitivo, è un po' come un bambino, che nasce non sa parlare, poi piano piano impara e cresce e impara sempre di più però all'inizio non capisce niente poi inizia a capire qualcosa, poi capisce qualcosa di sbagliato e continua a insegnargli e continua a capire e crescere posso fare una domanda? si, tanto il prossimo step è semplicemente che fa la stessa cosa di quell'altro e fa vedere ordina però avendo se avete capito che ha già capito che voglio un panino al salami, il prossimo step è solo come gestisci il contesto? cioè c'è una specie di sessione di sessione per cui tu capisci magari uno ti chiede voglio un panino e poi gli puoi chiedere ok, con che ingredienti e quindi poi aggiungi i parametri alla richiesta precedente allora alcune di queste cose se vi volete spingere molto e legare le mani e piedi a WPI e WPI riuscite anche a farlo con questi sistemi anche loro hanno un concetto di di sessione di contesto noi come assist queste cose ce le facciamo da soli nel senso il concetto di sessione e che cosa ti devo chiedere dopo lo decidiamo quando scriviamo il no quindi noi ci appoggiamo a un sistema di NLU solo per capire che cosa stai dicendo poi presa la risposta cosa fare con quella risposta lo decidiamo sul nostro sistema noi abbiamo sessione facciamo tracking di che cosa delle preferenze utente banalmente nei sistemi dove un'informazione importante è la localizzazione cioè dove sei un sistema che ti chiede a cui tu puoi chiedere che film ci sono al cinema stasera la prima volta ti chiede dove sei la seconda volta ti dice direttamente i film io ti sto facendo rivedere i film della location di prima se non sei più qui clicca questo pulsante cambia la location però fare questa cosa spostandola su un sistema di NLU un po' più complesso noi non lo facciamo però volendo si potrebbe andare a fare inoltre quanto è il tuo progetto ma la domanda probabilmente sulle atti di Facebook l'aggiornamento della location è come in Android che devi avere l'accettazione dell'utente che ti consente di aggiornare ci sono approcci diversi a questa cosa nel senso noi inizialmente anche perché sono applicazioni chatbot che girano all'interno di Messenger o di qualsiasi altro fornitore messaggistica che utilizzate tutto quello che tu puoi ricevere è quello che Facebook ti manda quindi se l'utente che utilizza ha abilitato noi inizialmente la facevamo a richiesta proprio per questo libro dove sei? io sono a Milano in Gerenini quindi non mi doveva autorizzare niente poi hanno messo il fantastico bottoncino share la tua location e quello loro lo gestiscono loro quindi sono loro che sanno se farlo vedere o no l'utente se l'utente ha detto no io a te Facebook la mia location non te la dicono ti fanno vedere il pulsantino e io non sono in grado di mettervi il pulsantino io posso usare solo quello che mi mette a disposizione poi gli puoi sempre chiedere dove sei? io gli posso sempre chiedere dove sei lui mi può dire io sono qui io sono là può anche dirmi il falso esatto ti posso chiedere se avete fatto una prova indicando vorrei un panino e il salame e un'altra richiesta con vorrei un panino col salame poi mi metti il salame nel panino no ok no ma è ben diverso voler acquistare dei panini e dei salami che sono due oggetti diversi due prodotti diversi che vengono messi in un carri da un panino al salame quindi utilizzando sempre la parola salame bisogna ecco vorrei capire come dipende tutto dal training che fate perché sì cioè la questa cosa che mi hai chiesto fa parte del training che tu fai ok su il sistema che ti fa riconoscimento del linguaggio quindi materialmente se gli dico panino e salame e del salame se gli dai talmente tante frasi però gli do dare tutte queste frasi ma quindi il vero valore aggiunto di riconoscimento di questi sistemi quale è alla fine perché se glielo devo insegnare tutto io non me lo faccio in casa e basta loro applicano algoritmi di machine learning se tu gli dai cento frasi lui impara a riconoscere duemila tu lo puoi fare in casa te lo puoi fare da solo però particelle preposizioni articoli determinativi determinativi li puoi eliminare possiamo iniziare nello stesso momento e vediamo chi fa prima beh io ho iniziato quindici anni fa 15 anni c'è nel passato di tempo io sono qua io sono 7-8 mesi effettivamente anch'io come lui mi aspettavo che magari alcune cose già fossero già presenti perché bene o male il machine learning l'ha già fatto con gli altri utenti con gli altri account no ecco alcune cose questo il training è vostro ok potete salvare esportare scusate ci sono alcuni che un giorno venderanno il training no è una cosa interessante magari non funziona per tutte le lingue nel senso sicuramente funzionano in inglese non in italiano va bene non funziona con gli anni testi API AI ti dà già dei domini trainati se li volete usare li attivate non so fate un state facendo un chatbot che che richiede orari e date non vi fate il training per chiedere orari e date attivate qua e lì chiaramente sulle date c'è qualcosa di diverso dalla semplice mappe navigazione punti di interesse ci sono alcuni contesti già pronti che potete solo attivare ovviamente queste cose in inglese in italiano le dovete fare però poi vi deve andare bene come lo fanno loro però sicuramente potreste velocizzare il training che si hanno già esatto loro hanno già una serie di intenti dichiarati che tu non vedi semplicemente loro ti dicono ok tu attivi questa cosa io ti sto aggiungendo alla tua base di conoscenza altra conoscenza che non hai fatto tu ma te la do io perché ce l'ho già pronta l'ho già fatta per centomila clienti non so dove li prendono questi dati magari veramente vanno a vedere cosa fanno gli altri questo è il valore aggiunto rispetto a farmi caro sì però ti devono andare bene questo perché poi se invece ti voglio un panino dici vorrei un panino lo capisce già di default lo devi attivare uno di questi domenici allora qui gli abbiamo detto mi va un panino voglio un panino ok questo può fare un test al ruolo vorrei un panino vorrei diverso da voglio e l'ha capito intento panino ma questo è perché hai fatto il training prima o no i training che vedi sono quei due fratelli ok oggi ho proprio voglia di un panino lo capisce sono algoritmi semplici nel senso la loro semplicità mi permette di essere molto potente se gli chiedi che cosa ha fatto il Napoli ieri mi hanno consigliato di non scrivere non l'ha capito va in default col back in test questo non riesci a capire cosa ha fatto il panino ieri vorrei un crudo no scrivi cosa ha fatto il panino ieri vorrei uno col crudo cioè scusa la cosa proprio non c'è rito no c'è panino eccolo però non ha preso gli ingredienti perché è solo per l'intento ok ok ma al che vada c'è il panino però attenzione un'altra cosa che si può andare a fare quando si fa il training è anche andare a dire sì poi questa parte utilissima questo cosa ha fatto il panino ieri è sbagliato ok ok che il training non è solo additivo certo ovviamente avete visto che mettendogli due frasi già iniziava a capire qualcosa cioè già funzionicchia due frasi sono proprio poche una vostra esperienza quante frasi di questo genere bisognerebbe darvi per intenti semplici una ventina per intenti più complessi duecento trecento ma io credo che dipenda anche dalla quantità di intenti che hai perché se è solo un intento bisogna stare molto attenti a non creare delle strutture in cui le regole vanno in conflitto perché poi quando vanno in conflitto ha fatto uno speech non mi ricordo come si chiama l'altra volta Alessandro Vittal ok ha detto una cosa intelligente cioè quando fate questa cosa è molto importante il test cioè tu costruisci qualcosa fai dieci intenti fai tutto il tuo training funziona benissimo bene dopo due giorni ne aggiungi cinque magari ne hai spaccati altri tre quindi è molto importante continuare a fare il training o a fare i test per verificare che tutto continua a funzionare non è difficilissimo iniziare bisogna stare attenti ma non si fa fatevi ignorare l'ultima frase che hai insegnato è possibile farla anche tramite i diari in batch quindi in blocchi e io sul mio db mi viene di frasi che voglio ignorare quindi devo dare non l'ho mai fatto ma lasciami dire potrebbe andare a vedere la documentazione questa qua però si fa parecchio si fa parecchio è tutto documentato potete penso che si possa fare una get e poi un update per andare a dire che cosa che cosa ha sbagliato ma invece la possibilità di autoprendimento c'è la possibilità di aggiungere delle regole diciamo in maniera automatica in base a succedimento potrebbe essere rischioso senza un controllo umano perché lui fa statistica lui dice statisticamente io ho capito che il peperolino è un ingrediente e te lo sta dicendo l'ho capito io poi si possono ignorare tutte queste cose e prima o poi scoprire che il sistema non funziona bene la cosa ideale sarebbe ogni tanto andare a verificare che cosa sta capendo e andargli a dare una mano perché se lo lasciate lì lui non fa niente cioè costruisce statistica però poi se è sbagliata continuerà a sbagliare ci sono strumenti che permettono di mettere insieme un certo stile di comunicazione con un certo dominio di conoscenza immaginiamo che io inserisco le mie bot un dominio di conoscenza non so per vendere tutte le verdure però voglio che il mio bot comunichi in un certo modo utilizzando quella conoscenza cioè stai parlando di come produce le risposte allora noi le risposte ne avevo parlato anche quest'estate quando siamo venuti al primo evento che è stato fatto qua le costruiamo sempre su dei template preconfezionati cioè noi non applichiamo tutto l'NLP per costruire anche le risposte perché questo vorrebbe dire veramente avere una confidenza in questa tecnica molto forte perché rischi che ti costruisca delle frasi strane cioè magari grammaticamente corrette ma senza senso puoi farlo l'unica cosa che facciamo per dare la parvenza che sia più intelligente di quello che è magari costruiamo 10-15 risposte per lo stesso intento e poi le diamo random quindi se tu gli continui a chiedere la stessa cosa 10 volte per le prime 15 ti darà le risposte diverse però può continuare la stessa però se provate a chiamare un call center e gli fate 10 volte la stessa domanda secondo me la terza vi va andando a cagare quindi è già un passo avanti potrebbe essere considerato un passo avanti c'era qualcun altro che ha stato la mano? mi scusa il termine esatto però sai che si potrebbe riconoscere in base alle parole che una persona usa se ha un tono aggressivo il sentimento analisi per capire questa cosa qui si fa da un sacco di tempo anche su sistemi preesistenti al telefono ok puoi farla con API? no con questi sistemi qui no però ce ne sono altri non mi pare nel senso noi non l'abbiamo mai mai fatta e non mi pare dalle interfacce di aver mai visto niente del genere però il sistema di Microsoft lo può fare sicuramente ma anche quello di IBM per capire se una persona usa un tono formale o informale per esempio e rispondere in stesso modo come si fa a rispondere allo stesso modo si cioè se una persona da lei al bot rispondere con il lei puoi fare tutti gli intenti puoi fare intento richiesta panino formale intento richiesta panino informale poi fai tutto il training diverso e c'è anche linguaggio giovanile quando scrivi k-e che vuoi dire che l-l-o ti una frase la vostra macchina stati la vostra macchina stati per rispondere vi metto su un'ultima slide così vi faccio vedere questa cosa ok la nostra macchina stati per rispondere quindi un dialogo che quindi può essere anche chiedere delle domande aggiuntive per disambiguare alcune espressioni e questo lo fate voi e non lo fate tanto esatto nel bot che stiamo facendo per le Nazioni Unite per i rifugiati c'è qualcosa del genere cioè riconosciamo l'intento che può essere avere delle informazioni riguardo che ne so alle scuole disponibili nel paese di destinazione dove stavo andando e a quel punto l'intento di richiedere informazioni sulle scuole potrebbe avere necessità di avere informazioni in più tipo ok di che nazionalità sei o che lingua parli e quindi poi noi riconosciamo l'albero riconosciamo dove siamo arrivati a seconda dell'albero che implementiamo e se serve facciamo altre domande e quando menciate la questo è più un mattoncino un mattoncino che voi potete mettere davanti a un bot poi il bot lo potete fare come volete e quando menciate la risposta comunque l'intento invita a menciare una risposta giusto? sì può essere solo intento l'entità può essere solo un dettaglio oppure l'intento e l'entità possono rappresentare cose diverse e lo fate comunque in modo statico non usate qualche intento per fare qualcosa di noi oggi facciamo tutto templating quindi risposte abbiamo dei templating risposte già pronti che a volte possiamo andare a completare con dei dati tipo hai ordinato il panino il panino può essere una variabile all'interno di un'etichetta già preconfezionata però ancora non ci siamo spinti nel costruire con l'elepidere risposte abbiamo visto che una frase può avere un intento e più entità una frase può avere anche più intenti cioè si il training è più difficile cioè più vi spingete in là con cose complesse più diventa complesso e mi riaggancio quello che dicevo prima più diventa più difficile fare test e fare garanzia di rettocompatibilità cioè di non è rettocompatibilità però non mi viene il termine cioè che non spaccate non regressione non regressione non regressione sì era tra l'interno la prima è se hai mai ragionato come Lewis no mai in realtà l'ho fatto un alloghino una volta però poi ti grizia e poi se una volta creato diciamo questo motore di DNA che voi su questo quello che ti ritrovi in mano è integrabile di solo per essere su una chat di Facebook no 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 voi avete un end point quindi un indirizzo potete anche farlo da browser da browser fate un po' fatica potete utilizzare un sistema tipo postman che è una sorta di add-on che viene agganciato dentro Chrome quindi vi serve un'applicazione che può essere agganciata dentro Chrome che vi permette di fare richieste a questi end point che fondamentalmente se non avesse l'autenticazione potresti farlo dal browser se la chiave di autenticazione fosse uno dei parametri semplicemente scrivere nel browser e vedere la risposta però il parametro è un parametro di header quindi io impari un puntino a giocicchiare col browser è un API rest ma quando lo pubblico c'è un po' che ho fatto il chat non te lo voglio migliorare se si apre direttamente la quinta propria no no io intendevo il WTI e PII cioè quello che vi danno è oltre a un'interfaccia grafica col quale fare il training vi mettono a disposizione delle API per poter chiamare il loro servizio e fare quello che io ho fatto prima cioè quello che vi ho fatto vedere nel momento in cui arriva il testo e abbiamo visualizzato quel JSON quel JSON è stato il frutto di una chiamata alle loro API quindi è stata una get e loro ti rispondono col JSON che rappresenta l'elaborazione e l'ultimo poi fatta questa parte diciamo di N2 voi usate per la parte proprio di N2 c'è qualcosa di vostro c'è qualcosa di sin cioè che ne so se io voglio disambituare dei sinonimi immagino che sia una una disambituazione che sta nel momento sinonimi per il valore della sessentità sì cioè si è conosciuto un intento del panino e poi posso vorreste dire con il formaggio con altri sinonimi quindi c'è anche la caratteristica e la disambito del panino si non so se poi ce l'ho fatto vedere un po' veloce però io ho creato l'entità ingredienti e poi ingrediente per ingrediente posso andare a dire sinonimi quindi per il prosciutto crudo c'era prosciutto crudo o prosciutto crudo quindi se io dico questi tre sinonimi rappresentano comunque il valore il valore prosciutto crudo per fare delle piccole cose nostre nel senso per contesti molto molto limitati lo stiamo facendo all'interno di quello che è l'utilizzo dei nostri chat per l'analisi generica continuiamo a usare questi servizi qua ma quali sono i tempi di risposta di quei due servizi? ah medi cioè in ordine di milisecondi centinaia di milisecondi la cosa che abbiamo notato noi un pochino stressando WTI è che se carichi parecchio puoi incorrere in qualche magari rallentamento tipo quanto? noi abbiamo rilevato anche una volta 4-5 secondi sì ma su quante richieste? ah no migliaia o decine? beh nulla ti vieta di chiamarle due contemporaneamente sì noi ci siamo messi anche in quella condizione lì ci siamo posti e per quello anche che abbiamo grappato tutto ci siamo in realtà l'abbiamo l'abbiamo grappato in un ulteriore a un ulteriore livello tipo se non risponde uno chiamiamo l'altro eh potreste fare round robin diciamo abbiamo applicato diverse tecniche ovviamente il grosso problema di fare questo giochetto è che il training dovete riuscire a tenerlo uguale poi è ovvio che è un aiuto quindi se un sistema sa aiutarti al 100% dei casi l'altro a 80% se il primo non risponde diciamo che l'80% è una buona è un buon aiuto col fatto che ci sono le API anche per introdurre nuove nuovi valori di casi delle frasi potete anche se siete bravi ok li utilizzeranno tutti e due e poi quando rilevo qualcosa di nuovo lo trovate anche di là diciamo che l'obiettivo del talk era farvi vedere che non è difficile in realtà iniziare a rendere un chat appunto qualcosa di intelligente poi è ovvio che se vi volete proprio spingere oltre magari fate una libreria e non la usiamo ok allora direi ulteriori domande sei brevissima se no le facciamo esistono dei ripositori o qualcosa di parte della community con training già pronti si quindi non ci siamo mai interessati non ci siamo mai interessati però per come sono fatti questi sistemi se uno vuole si perché tu puoi esportare se tu esporti la configurazione dell'agent e poi la puoi importare e quindi se sei molto buono dici guarda io ho fatto l'agent per la pizza per la pizzeria lo dono alla comunità uno se lo scarica se lo importa e poi il problema è che poi dopo lui va avanti sul suo agente cioè non c'è modo di creare una base comune e volevo segnalare di questo articolo che abbiamo pubblicato ieri che ho girato ma c'era perché l'ho aggiunto ieri sera questo articolo l'abbiamo pubblicato il nostro SEO ieri pomeriggio tardi che da loro era mattina e parla proprio di quello che vi ho accennato prima cioè una cosa che loro hanno chiamato RUN 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 il fatto che la gente all'interno di un albero decisionale in cui faccio quattro domande magari alla terza domanda cambiano idea ti danno una risposta sulla prima domanda che tu gli hai fatto è una cosa che noi abbiamo iniziato a fare qui spiega un po' la tecnica perché in realtà non abbiamo nessun software da poter rilasciare al mondo si spiega semplicemente che cosa succede la gente come vi dicevo prima li utilizza come pensa allo stesso modo in cui pensa quindi nel chatbot degli hotel di uno di quelli che abbiamo fatto che è a IAT gli chiedi dove vuoi andare a Boston quando ci vuoi andare domani quanti siete? in tre? benissimo ah no però non voglio andare a Boston voglio andare a New York cambi se sei bravo e continui altrimenti devi riparire da zero oppure spacchi il fusso perché non sei in grado di riconoscere questa cosa e di gestirla quindi un articolo interessante è stato rituitato e insomma ha creato un po' di di confusione perché è effettivamente interessante quindi se vi va datevi un'occhiata guardate su Medium se non vi siete segnati il link grazie applausi